Buonasera, stasera abbiamo qui con noi la scrittrice Francesca Allegri, nata a Castelfiorentino ma residente da diversi anni a Certaldo. Tanto tempo, sì. Era docente di letteratura latina ed ex direttrice della biblioteca di Casa Boccazio. Ha ideato e coordinato il progetto Le casse della memoria per la regione toscana. Collabora con la rivista Destrata Francigena e il Centro Studi Romei. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni. Sì, è vero. Ce ne vuole, cioè prima facciamo la prima parte e arriva al 2010. Che cosa ha scritto? Beh, ho scritto, ho sempre scritto, ma in particolare negli ultimi vent'anni, diciamo. Ho scritto dei testi sulla via Francigena, ho scritto dei testi sulla cucina ma non di cucina, varie cose, insomma, pubblicate anche da buone case editrici. Però diciamo che la mia produzione, quella a cui tengo di più, è quella dal 2010 in poi. E infatti cominciamo dal 2010. Ecco, cominciamo da lì. Con donne e pellegrine. Sì. Ce ne vuole parlare? Sì, certo. Io, come le ho detto, collaboravo con, collaboro, covid permettendo, con il professor Stopani per convegne, che è uno dei massimi studiosi della via Francigena. E così mi è venuta la domanda, spontaneamente, ma le donne pellegrinavano? E allora ho cominciato a occuparmi del pellegrinaggio femminile. Naturalmente l'editore mi disse, teniamoci a un certo periodo, che peraltro è un periodo lungo, perché va dal IV secolo, grosso modo, dalle matrone romane del IV secolo che partono e vanno in Terra Santa, fino a arrivare al Medioevo, senza andare oltre. E ho trovato molte tracce di donne che hanno dedicato, anche di santi, che hanno dedicato la loro vita al pellegrinaggio. Però, in questo suo pellegrinaggio, lei dopo si è dedicata a un'altra donna. Sì, perché? Cristina Tribuzio di Belgioioso. Di Belgioioso, proprio lei. Perché era rimasto fuori, perché Cristina Tribuzio di Belgioioso è una patriota, quindi siamo negli anni della rivoluzione italiana, cioè della nostra unità. Lei era amica di Mazzini, aveva fatto parte della carboneria, e quando c'è la Repubblica Romana, 1848-1849, lei partecipa alla Repubblica Romana. Premetto che la signora Francesca l'ha tradotta dal francese tutto da sola, tutto da sola, più di 400 pagine. Ecco, è una cosa carina che spesso non si sa, lei era addetta, nella Repubblica Romana, a curare i feriti. E si serviva, come aiutanti, come infermiere, delle signore di facili costumi. E dove le portava? Dentro i monasteri di clausura, perché nei monasteri di clausura c'era posto, i feriti venivano ricoverati lì, curati da, diciamo così, da signorine un po' facili, con grande scandalo delle suore, tanto per dire. Quando arrivano i francesi, lei naturalmente deve fuggire, come va via Garibaldi, no? Che va poi, Anita muore, lei fugge, prende la nave insieme alla figlia, c'è una ragazzina di una decina d'anni, la governante della figlia. E cosa fa? Siccome è una donna molto ricca, molto abbiente, si compra una fattoria. Non in Inghilterra, non in America, nel centro della Turchia. Perché lei pensa di farne un luogo di appoggio per i rifugiati politici italiani che sono dovuti fuggire. Un po' lontano. È un po' lontano, è tutto in un mondo molto diverso dal suo, da quello che conosce. Vicino a Ancara. Quando lei è lì, se ormai si è stabilita da un po' di tempo, c'ha il problema, perché lei è veramente credente, molto religiosa, com'è giusto di far fare la comunione alla bambina, alla bimba. Cosa sarebbe stato normale? Prendere, anche a quei tempi non era poi difficilissimo, da Ancara andare a Istanbul, c'era un messo pontificio, e lì trovava preti cattolici, quanti ne voleva. No, ma Cristina fa tutto. Era troppo facile. Ecco, Cristina fa tutto a modo suo. Mette su una carovana, fra l'altro c'è con lei il Marchese Antinori, che poi diventerà un esploratore, che era un farmacista. Una sua carovana e parte. Dice, la mia bambina deve passare a comunione a Gerusalemme il giorno di Pasqua. sei mesi per andare, sei mesi per tornare. Che cosa fa però durante questo viaggio? Lei scrive tutti i giorni, tappa per tappa, un articolo che manda a una rivista, che è la Revue du Du Monde, a Parigi. Quindi una giornalista? È una grande giornalista, una cattiva scrittrice, perché scrive dei romanzi non belli, francamente io me li sono sorbiti per dovere, ma non li consiglio. No, non le miacciono. Ma come giornalista è fantastica, è veramente fantastica, perché sa accogliere il momento, sa accogliere l'attimo, sa accogliere l'inonia, fa anche ridere. Ci sono delle storie bellissime, quando per esempio gli dicono proviamo l'ascisce, l'hanno provato tutti, proviamolo, è quello che gli succede quando lei fuma questa roba. Oppure entra negli areme, questa è la parte più seria. Che l'ascio può entrare perché essendo donna. Tutti i viaggiatori occidentali non erano ancora precluso, mentre lei è donna, viene accolta negli areme. Nessuno poi dei suoi ospiti, nemmeno uomini, ne fa mai uno sgarbo o pensa di non lasciarla più andare. No, no, però lei lo vede la vita degli areme ed è una cosa tristissima. È veramente atroce, è veramente brutta la vita di queste donne ammocchiate, sporche, incolte, che muoiono giovanissime. Insomma, è veramente desolante. Cioè, lei praticamente ogni tappa che faceva scriveva cosa vedeva? Non solamente gli areme, per esempio la produzione, le industrie, i paesaggi, i monumenti, quello che vedeva. Soprattutto però è una donna pratica, le interessa come coltivano, come fanno le miniere, come queste cose qua le interessano molto. Approfondiva le cose, diciamo. Sì, approfondiva molto. Era una donna molto intelligente e anche molto corta. E sempre per rimanere in tema di donne, qui solo donne, andiamo al Fuori dall'ombra. Prima cosa, il titolo. Perché Fuori dall'ombra? Ecco, io l'avevo intitolato, nei miei appunti era intitolato Le donne non famose. Volevo fare un libro su donne che non fossero famose. Poi con l'editrice abbiamo detto, no, un po' strano un titolo, Le donne non famose. In realtà sono donne che sono vissute dietro a grandi uomini e che quindi sono vissute all'ombra di grandi uomini. Ecco, noi Fuori dall'ombra, perché noi le abbiamo tratte fuori dall'ombra, le abbiamo portate in primo piano. Noi, dico io e la mia editrice, che è Nicole Carmignani, una giovane ragazza molto entusiasta, molto brava, le abbiamo portate alla luce, quindi fuori dall'ombra. Come poi sarà il secondo libro, Voci dal silenzio, che è praticamente la stessa cosa. Abbiamo dato qui, abbiamo dato voce a delle donne che voce non avevano, insomma. Senta, in tutte queste donne che lei ha descritto molto bene, ce n'è una che in modo particolare che lei ama, ci si sente più attratta? Io la mia l'ho già scelta. Me lo dice dopo. Me lo dico dopo. Ma tante sono, qualcuna mi sta antipatica, qualcuna mi sta antipatica, sì. Ma molte invece sono simpatiche, hanno delle vite, per cui i romanzi sembrano niente, no? Che devo dire, per esempio, a me è molto particolare, è la seconda moglie di Garibaldi, che fu moglie sua per due ore. Non le dico perché, leggerai il libro e vedrai. Sì, 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 sì. Sì, no, lì va a letti il libro. Perché? Perché un romanzo non potrebbe essere la stessa cosa. Oppure una donna che nessuno conosce, che stette dietro a quattro grandi... Però è che a quell'epoca erano furbi, eh? Sì, sì. Cioè, fatto sposare per due ore, vabbè, non sveliamo, non sveliamo. No, un'altra che stette invece dietro a un uomo, dietro a quattro grandi uomini, perché sono grandi, sono dei classici, e Freda Kelly, che fu la segretaria dei Beatles, per esempio. Ma la moglie di Hitchcock, per esempio, o la Joanna Bonger, la quale dobbiamo tutto Van Gogh, era la cognata, e le dobbiamo tutto. Ma lei quale aveva in mente? Io ho scelto l'amante del Valdini. Ah, la Piccolomini, la Bonarelli, la Costanza, bellissima, bellissima. Un bel curriculum, eh? Vuole le racconti la storia? Brevemente, se le racconti, se no leva tutta la... Però brevemente ce la dico. Dunque, lei era la moglie di Bonarelli, che era un collaboratore di Bernini, ed era l'amante di Gian Lorenzo Bernini. A un certo punto, però, Bernini ha dei sospetti, si apposta una notte e vede che da casa sua non esce il marito, che sarebbe stato normale, ma esce suo fratello, Luigi Bernini. Apriti cielo, spadancati terra. Gian Lorenzo rincorre con uno spadone Luigi e lo vuole ammazzare. Glielo levano di sotto, lo mandano via, lo mandano a Bologna, se no questo ammazza il fratello, ovviamente, ma fa di più. Lui manda un servo con un dono del vino in dono alla Costanza, e in realtà questo servo ha il compito di sfregiarla. Lo sfregio era tipico delle prostitute. Che quando... Eh, perché quando l'hai fatto lo porti sempre. Cosa succede poi? Che il Papa fa sposare Gian Lorenzo Bernini per tacitare lo scandalo, e lui si sposa con la più bella ragazza di Roma, alla quale appena entra in casa e dice il ritratto della tua amante, via. Non ce lo vorrei, certo. Intanto è vero, non è a Roma, è a Firenze, è all'uffizio. Andate a vederlo, perché c'è questa donna bellissima, un ritratto diverso da quello di tutte le altre donne di Bernini, che sono delle dame, tutte vestite, e tutto il resto. No, lei è con i capelli semisciolti e soprattutto con la camiciola qui aperta, con due o tre bottoni, che ci fa vedere e non vedere, diciamo. Era l'amante. Era l'amante, era l'amante. E lui se l'era fatto per sé, non per renderlo. E poi lei ritorna con il marito, e quando il marito muore, lei diventerà uno dei più grossi venditori, come si dice, d'arte, di tutta Roma. Avrà delle opere importantissime, le venderà a mezza Europa. Quindi è una donna non solo bellissima. No, è molto intelligente. Ma anche, molto, molto intelligente. Di più. Senta Francesca, ha nel cassetto qualcosa ancora? Eh sì, sì, ho nel cassetto, ma diciamo che è quasi mezzo fuori del cassetto, perché sarà pubblicato a breve. Doveva essere pubblicato già qualche mese fa, ma abbiamo avuto uno stop con il Covid, le presentazioni, tutto un po' fermo, che si chiama Donne, scusatemi, Sante, Sante, Donne Contro, oppure anche altri titoli, abbiamo pensato, ancora il titolo non è definito. Perché noi delle Sante abbiamo un'idea un po' stereotipata, a geografica, no? Sono donne che hanno fatto del bene, se erano spose e madri facevano tanta carità, se erano monache stavano in convento e pregavano, e anche qui mi sono invece trovata di fronte a dei personaggi con delle vise incredibili. Tanto per dire le famose suore, le famose Sante, come Santa Verdiana, che si chiudono, no? E stanno trent'anni. Nessuno ha viaggiato più di Santa Verdiana, non credo esista. Una domanda dove sta chiusa? Dopo. Prima viaggio. Ah, ecco, appunto. Prima viaggio. Appunto, prima, diciamo, prima il dovere, no, com'è? Prima il piacere, poi il dovere. No, 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 prendiamoci bene, viaggia sempre per pellegrinaggi, ecco, anche andasse in crociana, non è il club mediterraneo. Però era una donna che aveva visto il mondo, che aveva conosciuto, che aveva saputo, aveva conosciuto personalità, cioè non è l'ingenuetta che si chiude, la beghina, diciamo, che si chiude, per non parlare e dire poi di chi erano le beghine, cosa incredibile. Eh, lo scopriremo nel prossimo romanzo. Lo spero di sì. Francesca, quando scrive? In genere scrivo nel pomeriggio. La mattina faccio tutte le cose mie, le cose che mi servono, le commissioni, tutto quello che si deve fare, e il pomeriggio, il pomeriggio scrivo. Però non è una cosa così, così irregolare, posso magari scrivere alcuni pomeriggi, poi alcuni no, ma alcuni no. La notte io non sono capace di fare niente. Ecco, se ci dà tutti i suoi pomeriggi, sa come passare la giornata, eh? Non come tu, non tutti, naturalmente. E quando era a scuola? uguale? Sì, quando era a scuola allora era un po' più difficile ritagliarsi il tempo. Perché il signore è un insegnante, cioè è stato un insegnante. E quando insegnavo allora era molto più faticoso, però devo dire che avevo anche diversi anni meno, quindi la reggevo di più. Rimaneva tutto più facile. La reggevo di più la fatica, sì. Senti Francesca, ci vuole dire qualche altra cosa su di lei? Sì, una cosa ci terrei, ed è questa. Quando, come le dicevo, io sono una persona curiosa e scrivo perché le cose mi destano curiosità, le note a pie pagina, le persone che vengono messe in nota, quelle figure che rimangono marginali e sono quelle che mi interessano. Ma io mi sono data un compito, che è il questo. Dunque, ci sono gli accademici, gli storici, che insegnano all'università, che studiano gli studiosi, che sono a un livello alto e loro fanno un lavoro che è diverso dal mio. Io non vado negli archivi, non compulso documenti, io voglio essere divulgativa. Vorrei che attraverso queste mie biografie, la mia speranza sarebbe, di avvicinare le persone alla storia, alla cultura, alla letteratura. Penso che le persone, che la gente generalmente, sia un po' sottovalutata, si creda che le persone amino soltanto spettacoli sciocchi, come ne vediamo in tanti, in tante televisioni, mentre invece sono convinta che se noi riusciamo a porgere degli argomenti seriamente strutturati, lavorati con passione, con precisione, ma a livello, diciamo così, più semplice, la gente si appassiona. Io ho fatto delle conferenze di linguistica italiana, probabilmente non a livello universitario, in cui la gente mi ascoltava rapita, perché la gente ha fame, ha desiderio di sapere. E infatti, io vorrei concludere questa intervista con ciò che lei mi ha detto. Io mi propongo di rendere la storia semplice, divertente e su dati precisi. Lei mi dice, la gente ha fame di cultura. Ne ha tanta fame, ed è un peccato non dargliela. Ci sono degli ottimi divulgatori, pensiamo per tutti, ai Goiangela, al professor Barbero, più nel campo, diciamo, scientifico, artiglia, la storia dell'arte, meno per la storia e meno ancora per la letteratura. Mentre invece, io sono convinta che se io leggo a qualcuno la lettera di Machiavelli e di Guicciardini, secondo come gliela presento, diventa una cosa appassionantissima. Sì, senz'altro. Senz'altro, come a me mi ha appassionato legge il libro e mi ha dato. Grazie. Grazie a me. Senta Francesca, niente, io la ringrazio per la bellissima intervista che abbiamo fatto. ci ha fatto proprio un'intervista tutta donna. Sì, quello sì. Questa volta siamo donne. Sono proprio contenta di averlo ospitato e mi auguro che possa ritornare quando pubblicizza il suo prossimo libro. Grazie. Le faccio tanti, tanti auguri e noi la saluto e noi ci vediamo la prossima settimana. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti.